Benvenuti al nostro canale. Oggi abbiamo qualcosa di speciale da condividere con voi, ma prima di iniziare, vorremmo chiedervi un piccolo favore. Sappiamo che ci sono molti modi per sostenere il nostro lavoro qui, ma il più importante di tutti è iscriversi al nostro canale. Iscrivendovi, ci state dando un grande incoraggiamento a continuare a creare contenuti che speriamo possano arricchire la vostra vita. La vostra iscrizione è come un voto di fiducia, un segno che apprezzate ciò che facciamo e che volete vedere ancora di più da noi. Inoltre, essere iscritti al canale significa che non vi perderete mai i nostri futuri video e le nostre avventure. Quindi, se ancora non lo avete fatto, vi preghiamo gentilmente di fare clic sul pulsante di iscrizione, attivare le notifiche e unirvi alla nostra comunità. È un piccolo gesto che ci aiuterà enormemente a crescere e a continuare a creare contenuti di qualità per voi. Grazie mille per il vostro sostegno. Ora, senza ulteriori indugi, iniziamo con il video di oggi. Buona visione! C'era una volta, in un antico monastero buddista situato tra le verdi colline di un remoto villaggio, un giovane monaco di nome Siddhartha. Siddhartha era noto per la sua saggezza e la sua profonda comprensione delle scritture buddiste, ma, nonostante tutto ciò, sentiva che c'era qualcosa di fondamentale che gli mancava nella sua ricerca spirituale. Un giorno, mentre Siddhartha meditava nei giardini del monastero, il suo maestro, il venerabile Kalyana, si avvicinò a lui con un sorriso sereno. Siddhartha, disse il maestro, ho notato che ultimamente sei profondamente assorto nei tuoi pensieri. Qualcosa ti tormenta? Siddhartha chinò il capo e rispose, venerabile Kalyana, ho riflettuto a lungo sul significato delle scritture e sulle parole del Buddha. Tutto sembra chiaro, ma c'è una questione che continua a sfuggirmi. Come posso trovare il vero significato dell'amore nella mia vita? Il maestro Kalyana a noi comprensivo e disse, l'amore è il motore dell'azione, Siddhartha. Perché quando si ama, si agisce con determinazione. Non aspettare, agisci con amore. Siddhartha riflette profondamente su queste parole mentre il sole lentamente si nascondeva dietro le montagne. Decise che era giunto il momento di intraprendere un viaggio alla ricerca del vero significato dell'amore. Partì dal monastero, attraversò fitte foreste e camminò per lunghi giorni. Incontrò persone di diverse culture e credenze lungo il suo cammino e imparò molte lezioni preziose. Ma ancora, non aveva trovato la risposta che cercava. Un giorno, mentre attraversava un villaggio, Siddhartha vide una giovane donna che piangeva accanto a un albero. Si avvicinò con gentilezza e le chiese cosa fosse accaduto. La donna, con gli occhi gonfi di lacrime, raccontò la sua storia di dolore e perdita. Siddhartha rimase al suo fianco, ascoltando con compassione. Non aveva molto da offrire in termini di aiuto pratico, ma il suo ascolto attento e la sua presenza amorevole sembravano alleviare il peso del dolore della donna. Quella notte, mentre meditava sotto le stelle, Siddhartha realizzò finalmente la profondità del significato dell'amore. Non si trattava solo di parole o concetti astratti. L'amore era azione, era compassione, era essere lì per gli altri quando ne avevano bisogno. Tornò al monastero con un cuore leggero e una nuova comprensione. Condivise la sua esperienza con il venerabile Kalyana e gli altri monaci, spiegando che aveva imparato che l'amore vero si manifestava nell'azione, nell'aiutare gli altri e nell'essere compassionevoli. Da quel giorno in poi, Siddhartha dedicò la sua vita a praticare l'amore attraverso azioni amorevoli. Aiutò i bisognosi, insegnò agli altri la compassione e diffuse il messaggio che l'amore non era solo un concetto, ma una forza che poteva cambiare il mondo. E così, nel monastero buddista tra le verdi colline, l'amore divenne il vero motore delle azioni di Siddhartha, dimostrando che quando si ama veramente, si agisce con determinazione, portando la luce della compassione e della gentilezza ovunque si vada. Gli anni passarono, e Siddhartha divenne un punto di riferimento spirituale non solo per i suoi confratelli nel monastero, ma anche per le persone del villaggio e delle comunità circostanti. La sua gentilezza e il suo amore si diffusero come cerchi nell'acqua, influenzando positivamente tutti coloro che aveva incontrato lungo il suo cammino. Un giorno, un giovane disorientato giunse al monastero. Era tormentato da dubbi e ansie, proprio come Siddhartha una volta lo era stato. Siddhartha lo accolse con un sorriso caldo e lo ascoltò attentamente mentre condivideva le sue preoccupazioni. Poi, con parole dolci e sagge, condivise con lui la verità che aveva scoperto, l'amore è il motore dell'azione. Quando ami sinceramente, agisci con determinazione per il bene degli altri e il tuo stesso cuore trova pace. Il giovane fu profondamente ispirato dalle parole di Siddhartha e decise di rimanere nel monastero per imparare da lui. Insieme, condividevano la pratica della meditazione e della compassione, aiutavano i bisognosi e diffondevano la saggezza del Buddha. Le notizie delle loro azioni amorose raggiunsero villaggi lontani, attirando persone da ogni parte in cerca di guida spirituale. Il monastero, una volta tranquillo e isolato, divenne un luogo di insegnamento e crescita spirituale. Siddhartha divenne un maestro rispettato in tutta la regione, ma la sua umiltà e il suo amore rimasero intatti. Con il passare degli anni, la comunità cresceva sempre di più, e Siddhartha iniziò a insegnare che il vero amore e la vera compassione non avevano confini. Non importava chi fossi o da dove venissi, tutti potevano imparare a vivere con amore e gentilezza nei propri cuori. La fama di Siddhartha si diffuse oltre i confini della sua terra natale, attirando l'attenzione di monaci e persone spiritualmente assetate da terre lontane. Il suo monastero divenne un luogo di pellegrinaggio per coloro che cercavano di comprendere il vero significato dell'amore e dell'azione compassionevole. Siddhartha, o come era stato soprannominato amorevolmente, il maestro dell'amore, continuò a vivere la sua vita con umiltà e dedizione. Anche se era diventato un punto di riferimento spirituale per molte persone, mantenne la sua semplicità e il suo amore per tutti coloro che incontrava. E così, nel cuore di quei verdi colli, l'amore continuò a essere il motore delle azioni di Siddhartha e di tutti coloro che aveva influenzato. Il suo messaggio era semplice ma profondo. Quando si ama veramente, si agisce con determinazione per alleviare il dolore degli altri e portare la luce della compassione ovunque si vada. E questa verità, insegnata attraverso le azioni, continua a risplendere come una stella luminosa nell'universo della conoscenza buddista. Ringraziamo di cuore tutti voi che avete condiviso questo viaggio con noi oggi. Speriamo che la storia di Siddhartha e il potere dell'amore nell'azione vi abbiano ispirato tanto quanto ci hanno ispirato. Se avete apprezzato questo video e desiderate vedere più contenuti simili nel futuro, vi preghiamo di fare tre semplici cose per supportarci. Prima di tutto, assicuratevi di essere iscritti al nostro canale. Cliccando sul pulsante di iscrizione e attivando le notifiche, rimarrete sempre aggiornati sui nostri nuovi video. In secondo luogo, lasciateci un grande pollice in su se avete apprezzato il contenuto. Questo ci aiuta a raggiungere un pubblico più ampio e a far sì che altre persone possano scoprire le nostre storie e i nostri messaggi positivi. Infine, condividete questo video con i vostri amici, familiari e con chiunque crediate possa trarne beneficio. La condivisione è un modo meraviglioso per diffondere il messaggio dell'amore e dell'ispirazione. Grazie ancora per essere qui con noi, per il vostro supporto e per essere parte di questa comunità. Con il vostro aiuto, possiamo continuare a diffondere amore e saggezza attraverso i nostri contenuti. A presto, e ricordate sempre, l'amore è il motore delle azioni che cambiano il mondo.